Li porteremo là. Non mi sposto, John. Forza! Il punto secondario è più avanti! Avete sentito? Te lo sei immaginato, Maretti. Mi sa che il cervello ti sta andando a puttane. Ehi! Fanco! Silenzio. Lo sento anch'io. Ascoltate. Porca puttana! Contatto! Contatto! Sono robot da salto a NRC. Un mucchio di robot. Dobbiamo aprire quella porta. Dateci fuoco di copertura. Dentro! Dai, dai, dai! Al punto di recupero. Noi pensiamo ai robot. Avete sentito? Ve lo sei immaginato, Maretti? Mi sa che il cervello ti sta andando a puttane. Ehi, fanculo! Silenzio. Lo sento anch'io. Ascoltate. Porca puttana! Contatto! Contatto! Sono robot da salto a NRC. Un mucchio di robot. Dobbiamo aprire quella porta. Dateci fuoco di copertura. Dentro! Dai, dai, dai! Al punto di recupero. Noi pensiamo ai robot. Noi pensiamo ai robot. Avete sentito? Ve lo sei immaginato, Maretti? Mi sa che il cervello ti sta andando a puttane. Ehi! Fanculo! Silenzio. Lo sento anch'io. Ascoltate. Porca puttana! Contatto! Contatto! Robot d'assalto a NRC. Un mucchio di robot. Dobbiamo aprire quella porta. Dateci fuoco di copertura. Dentro! Dai, dai, dai! Al punto di recupero. Noi pensiamo ai robot. Taylor, via libera. Ce la caviamo. Ci sono altri ostaggi. Potreste liberarli voi. Non sono una priorità. Lo so benissimo, ma sono pur sempre persone. Cazzo! Ormai c'è il sogno, il briciolo di umanità. Ok, cambio di programma. Hendrix, voi preoccupatevi di portare...